Oroscopo del giorno, martedì 5 settembre 2017. Ariete. Possibili infatuazioni o colpi di fulmine per i single che saranno solari e frizzanti. Novità in amore, qualcuno entrerà nel vostro cuore. Lavoro, possibili dissapori con i colleghi di lavoro. Prestate maggiore attenzione a ciò che dite, potrebbe essere interpretato male. Toro. Lavoro. Lavoro. Gemelli. Amore, momento particolarmente propizio per la vita sentimentale. Venere in ottima posizione proteggerà gli affetti e le storie datate da tempo. Serata frizzante. Fidanzamenti e progetti importanti sono in arrivo per i cuori solitari che vorranno impegnarsi. Tanti auguri. Lavoro, ottime occasioni per il raggiungimento dei vostri obiettivi professionali. Non distraete lattenzione dalle questioni importanti. Cancro. Amore, oggi ci saranno cambiamenti inaspettati ma nulla turberà la vostra intesa con il partner. Nonostante tutto regnerà una perfetta complicità. Sono in arrivo relazioni sociali, nuove amicizie e nuovi amori per i single che vorranno lanciarsi in nuove avventure. Lavoro, è un momento decisivo per gli incontri professionali e i colloqui di lavoro. Oggi sarete creativi e sono previsti lauti guadagni. Leone. Amore, linfluenza di Urano e Saturno potrebbe dare una nuova piega alla vostra vita sentimentale. Avete bisogno di nuovi stimoli, la passione è alerta. Nuovo look di successo per i single, sarete particolarmente fascinosi e i risultati sono davvero inaspettati. Lavoro, cambiamenti in vista per la vostra sfera professionale, nuove occasioni di lavoro e viaggi vi attendono. Vergine. Amore, Marte nel vostro segno apre per voi una fase che porterà tante nuove situazioni. Liberatevi dallansia e piuttosto cercate di portare equilibrio nella vita privata. Una ventata di novità entrerà nella vita dei single, tanti gli incontri sentimentali folgoranti. Lavoro, oggi pioveranno le offerte di lavoro. Cercate però di non esagerare con gli impegni, prendetevi una pausa. Bilancia. Bilancia. Scorpione. Amore, oggi non fatevi guidare dallegoismo e combattete per ciò che più vi sta a cuore. Avrete un ottimo sostegno da parte del partner e questo vi tranquillizzerà. Colpi di fulmine per i single nati della seconda decade. Per voi sta per aprirsi una nuova fase astrale, vivetela col cuore. Lavoro, si aprono nuove opportunità professionali, è il momento buono per far partire un progetto a cui tenete molto. Sagittario. Amore, giornata felice per la vita affettiva. Grazie al transito di venere nel segno si apre un nuovo scenario nella vostra vita sentimentale. Momento decisivo per le coppie di vecchie data. Rinnovamenti in arrivo per i single, cogliete al volo le occasioni che vi si presentano. Capricorno. Lavoro, siete particolarmente determinati a difendere i vostri traguardi professionali. Sconfiggerete chiunque vi ostacolerà. Capricorno. Amore, oggi sarà una giornata serena dal punto di vista sentimentale, senza grandi emozioni ma con tante certezze. In arrivo una bella notizia in serata. I single non sapranno da che parte prendere, quando piacciono due persone di solito non si sceglie nessuno. Lavoro, con mercurio dalla vostra parte stringerete collaborazioni con persone fidate. Grazie a loro raggiungerete i vostri obiettivi. Acquario. Amore, sarete insolitamente gelosi e assillerete il partner con i vostri discorsi. Siate indulgenti ed evitate di vedere il marcio dove non c'è, fidatevi. I single avranno dalla loro parte Giove e Saturno e faranno tantissime conquiste. Forse incontrerete lanima gemella. Lavoro, in arrivo successi e guadagni, le vostre finanze migliorano sensibilmente, segno che il lavoro va bene. Ottime opportunità in arrivo. Pesci. Amore, un pizzico di insofferenza verso il partner di sempre vi farà sorgere qualche dubbio. Sarete alla ricerca di nuove emozioni ma evitate di confondervi le idee. I single dovranno cercare di liberarsi delle ombre del passato. Lasciatevi andare alle gioie dellamore. Lavoro, gli astri sono particolarmente favorevoli e appoggeranno un vostro nuovo progetto o un affare da concludere. . .